pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati con il mercoledì delle ceneri inizia il tempo di quaresima un tempo di conversione che vuol condurci a celebrare la pasqua con un cuore rinnovato molte infatti possono essere le zavorre che ci hanno appesantiti attaccamenti disordinati priorità sbagliate stiamo dando troppo tempo al lavoro alle cose da fare poca cura alle persone che abbiamo accanto poca attenzione alla vita spirituale stiamo dilapidando tanto tempo in cose poco utili o inutili del tutto ecco miei cari dio ci offre un tempo per mettere ordine alla nostra vita la quaresima è come un tempo di allenamento spirituale perché come dice la preghiera della colletta della messa con l'aiuto di dio possiamo affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male noi vogliamo chiederci come vivere questo tempo in modo significativo io vi offro due piste desiderio e concretezza la prima il desiderio cioè per vivere bene la quaresima la prima cosa importante è avere il desiderio di sfruttare questa occasione è infatti una grazia che ci viene offerta per intraprendere un cammino di liberazione potremmo domandarci con umiltà quanto la nostra vita è cambiata in meglio con tutte le quaresime che abbiamo celebrato chissà forse guardandoci indietro dobbiamo ammettere quante quaresime sprecate quante occasioni mancate perché ciò non accada ridestiamo dunque il desiderio il desiderio di dio di essere santi di essere liberi di amare di più e meglio sentite che belle le parole di sant'agostino che dice l'intera vita del fervente cristiano è un santo desiderio se tu devi riempire un recipiente e sai che sarà molto abbondante quanto ti verrà dato cerchi di aumentarne la capacità ampliandolo lo rendi più capace cerchiamo quindi di vivere in un clima di desiderio perché dobbiamo essere riempiti dio vuol donarci se stesso vuol donarci tanta grazia dunque alleniamoci nel desiderio di lui ma non solo miei cari e qui entriamo nel nostro secondo punto per vivere bene la quaresima al desiderio deve conseguire anche qualcosa di concreto di pratico infatti continuando sempre sant'agostino dice tu devi essere riempito dal bene quindi devi liberarti dal male supponi che dio voglia riempirti di miele se sei pieno di aceto dove metterai il miele bisogna liberare il vaso da quello che conteneva anzi occorre pulirlo magari con fatica impegno se occorre perché sia idoneo a ricevere qualcosa ed ecco allora il vangelo che ci consegna tre opere che siamo chiamati a vivere ad intensificare in questo tempo tre medicamenti tre rimedi al peccato preghiera digiuno e dell'emosina dedicando più tempo alla preghiera permettiamo al nostro cuore di respirare e come ha ricordato il di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi per cercare la consolazione in dio l'emosina ci libera dall'avidità e ci aiuta a scoprire l'altro come fratello come sorella e a sperimentare che ciò che ho non è solo mio ogni elemosina significa partecipare alla provvidenza di dio verso i suoi figli il digiuno ci libera dalla nostra violenza ci disarma ci fa sperimentare cosa vivono i poveri sveglia il nostro spirito ci fa più attenti a dio e agli altri ed esprime la condizione del nostro spirito affamato di bontà e assetato di dio ora miei cari qual è il rischio o non farle proprio e appunto perdere l'occasione della quaresima oppure farne un assoluto cioè il mio obiettivo di quaresima è pregare un po di più fare qualche lemosina o fare qualche digiuno perché si deve o per sentirmi a posto con la coscienza oppure peggio ancora per essere considerato bene dagli altri da chi ho vicino se facessimo così falliremmo tutto sarebbe ridotto a una gara con noi stessi con il nostro io ideale avremmo ridotto la vita spirituale a moralismo cioè a delle cose che si devono fare perché giusto perché si deve per ottenere qualcosa in cambio magari pure da dio il signore nel vangelo ci ricorda invece come viverle nel nascondimento e perché viverle non per essere più perfettini ma per incontrare il padre che è nel segreto dunque come gesti che esprimono un'autentica relazione d'amore per lui per noi stessi e per gli altri gesù ci dice quando pregate non state ritti davanti agli uomini così che vi vedano e vi elogino avreste già ricevuto la vostra ricompensa quando digiunate non sfiguratevi perché gli altri lo notino avreste già ricevuto la vostra ricompensa quando fai l'emosina non suonare le trombe come gli ipocriti perché tutti lo sappiano se no avresti già ricevuto la tua ricompensa vedete il signore viene a togliere di mezzo quella ricerca della ricompensa dello sguardo altrui quel fare le cose cercando negli altri nel giudizio degli altri nello sguardo degli altri il proprio tornaconto il signore viene a togliere di mezzo il vivere per queste cose da quattro soldi per queste ricompense fasulle che appagano per poco il nostro ego e che passeranno con sorella morte e a cercare dio solo a cercare la ricompensa del padre il suo amore la sua gioia che si riversa in noi copiosa e abbondante dunque a vivere queste cose come ricerca di lui come espressione della relazione con lui miei cari così inizia a cambiare tutto queste opere non saranno il fine assoluto per dimostrare di essere bravo o ricevere consenso dagli altri ma opere grazie alle quali e nelle quali incontro il padre lasciandomi condurre verso la libertà propria di chi sa amare e perciò a qualcosa sa anche rinunciare ed ecco il secondo suggerimento per vivere bene la quaresima prendere qualche proposito concreto se partiamo in generale rischiamo di finire male di disperderci dopo qualche giorno o alla prima caduta ci aiuta invece prendere qualche proposito concreto da portare avanti vi faccio qualche esempio cercherò più intensamente il signore elevandogli più spesso mente e cuore nell'arco della giornata o pregherò un po di più aiutandomi con una determinata preghiera se non sono abituato pregherò con il vangelo del giorno e in questo vi può aiutare anche la nostra app o mediterò ogni giorno su un piccolo brano della passione di gesù mi preparerò a vivere bene il sacramento della riconciliazione leggerò un buon testo di spiritualità e poi rinuncerò a un cibo che mi piace particolarmente magari donandolo infine ai poveri andrò un po meno su internet guarderò un po meno il telefono i social la tv specialmente nel giorno di venerdì stabilirò un tot da dare in elemosina dedicherò ogni giorno un po di tempo in più ai familiari alla moglie al marito ai figli o ai confratelli alle consorelle mi impegnerò a chiamare persone bisognose o a visitare qualcuno da solo insomma miei cari largo alla fantasia e alla concretezza che ci aiuta e ci custodisce nel bene e che il signore ci aiuti a vivere intensamente questo tempo di grazia che ci è dato per cambiare rotta per ricentrarci su di lui e su ciò che realmente vale che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti